salve a tutti ben ritrovati a questa nuova edizione del momento politico ospite di questa sera e sarah beretta piccoli candidata per il consiglio nazionale con i verdi liberali buonasera sarah buonasera candidata per il consiglio nazionale con i verdi liberali nel nostro gruppo c'è un po una scissione sulla questione nucleare io personalmente per me nucleare no è gestato da sempre noi siamo forse la generazione chernobyl sappiamo quante quanti danni può fare nucleare anche in piccole dosi ancora adesso ci sono dosi di cesio nei cinghiali vengono abbattuti perché con la dose troppo alta di cesio vuol dire che circola ancora tantissimo nel nostro territorio si dimezza a livello di raggi nucleari il censo si dimezza in 36 anni quindi adesso si è dimezzato ma ne abbiamo ancora metà e quindi fra altre altre due generazioni ci sarà ancora cesio in ticino sul passato il 5 6 10 11 12 12 15 15 15 15 Grazie.